Oswald Weissenhorn si conferma padrone quasi assoluto della Suttirol Cup di mountain bike. A Naturno, in occasione del trofeo Cassa Raiffeisen, il campione dell'SV Valvenosta, alla venerabile età di 45 anni, ha conquistato il terzo successo nella quarta prova del circuito che assegnerà i titoli provinciali altoatesini di uphill. Decisamente impegnativo il percorso che da Naturno porta a Malga-Zettenholm, 12,7 chilometri per un dislivello di 1210 metri e una pendenza media del 9,5% con punte del 16%. Tra i master, Weissenhorn, che pur essendo di Malles correva praticamente in casa, ha confermato di essere il più forte, tagliando per primo il traguardo col tempo di 51 minuti e 17 secondi, rifilando quasi un minuto e mezzo al secondo classificato Thomas Piazza del Sunshine Race Nalles, che ha preceduto a sua volta di 8 secondi l'altro venostano, Freddy Valnofer. No, all'inizio era andato molto duro, 10-10 minuti, perché io sono 45 anni e poi quando sono caldo va meglio. In campo femminile Marina Ilmer ha dimostrato che l'età non conta. Con i suoi 40 anni la biker meranese della SOMEC ha messo in fila tutte le avversarie, completando il percorso in un'ora e due secondi, rifilando quasi sette minuti e mezzo alla velostana Anna Pircher. Sì, sono molto contenta, perché di solito non faccio più gare in mountain bike e anche uphill, di solito faccio gran fondi e per quello sono molto contenta. È stata però una gara dura per me. Soddisfatti gli organizzatori della RSV Winchgau per il successo della manifestazione che ha portato sul tracciato di Naturno un'ottantina di partecipanti. Se possiamo fare di nuovo il campionato provinciale lo facciamo sicuramente. Pensiamo per fare un cross country giù in paese a Naturno e vediamo. Le prossime tappe della Sottirole Cup sono in programma sabato 20 giugno a Montepana in Val Gardena, il 28 a Panchià, il 15 agosto a Pergine, il 22 a Cardano e chiusura il 6 settembre in Val Cazies.